Sono i più piccoli, ma credetemi sono i più grandi, hanno dai 4 anni e mezzo ai 7 anni e signore e signori io sono felicissimo di averli qui oggi con noi perché dopo arriverà anche il loro capo, che è Babbo Natale, facciamo un grandissimo applauso ai piccoli e i fatti di Babbo Natale, in corso, l'Invencer Guarda come sono tutti Avete detto buonanotte? Buonanotte Bravi Grazie 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 a tutti. 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 Grazie a tutti.